Musica Fumata bianca dall'incontro convocato dal vicepresidente della regione Campania Fulvio Bonavità con le altre forze politiche che intendono sostenere la ricandidatura del governatore Vincenzo De Luca sottoscritto un sostegno unitario al presidente della regione uscente esponente del Partito Democratico presenti il segretario regionale del PD le ha annunziati i referenti regionali del partito articolo 1 Italia Viva, Noi Campani che fa riferimento al sindaco di Benevento Clemente Mastella Partito Socialista Italiano, Demos, Partito Repubblicano Italiano, Moderati, Verdi, Centro Democratico Alleanza per i Territori che fa riferimento all'ex sottosegretario Gioacchino Alfano Fare Democratico che fa riferimento al presidente dell'ASI Giosi Romano Repubblicani Democratici e Partito Animalista Italiano Il referente dell'Italia e Popolare Giuseppe De Mita era assente per motivi tecnici ma ha confermato il sostegno alla coalizione Bruno Campardella di Più Europa ha annunciato il sostegno del gruppo ma solo dopo una ratifica dell'organismo nazionale L'incontro era stato convocato dal vicepresidente della Regione Bonavitacolo con l'obiettivo di definire la coalizione delle forze politiche civiche che intendono sostenere la conferma del presidente De Luca alla guida della Regione per garantire alla Campania nuovi traguardi di sgruppo e di sicurezza con rinnovato slangio dell'azione dei cambiamenti impresso nella consigliatura in corso dall'azione del Governo regionale Passa la programmazione 2018 ma all'interno del piano di zona A4 la bagarre non cessa Il coordinamento dei sindaci guidato dal vicepresidente Pasquale Pisano sindaco di San Martino Valle Caudina ha visto l'approvazione delle misure e dei servizi dedicati all'ambito A4 pur con qualche distingo Per alcuni sindaci l'atto potrebbe essere illegittimo alla luce della mancata elezione del presidente Non ho preseduto io l'organismo, cioè il vicepresidente come era giusto che fosse Il nostro principale obiettivo era quello di garantire i servizi alla nostra comunità Esprimo grande soddisfazione per la delibera e il ringraziamento ai colleghi che l'hanno voluta condividere afferma il sindaco di Avelino Gianluca Festa Alla gente interessa ricevere i servizi e noi sappiamo di voler essere vicini alle fasce deboli e di voler implementare l'organizzazione del piano di zona La grande notizia è che con questa delibera si mette la parola a fine al passato Abbiamo azzerato i residui e i finanziamenti in sospeso e abbiamo utilizzato tutti i soldi per dare risposte serie alla gente innanzitutto implementando il servizio per i bambini autistici Passiamo da 240.000 euro a 330.000 euro 1,3 milioni di euro per bonus verso i meno ambienti pacchi alimentari per i campi all'aperto e poi assistenza agli anziani diversamente abili e centri polifunzionali Insomma un grande piano per le fasce deboli Vale tanto soprattutto in questa fase le comunità avevano bisogno di questa risposta Con questi atti, continua festa, abbiamo messo a posto tutti i conti tutti i finanziamenti e soprattutto ripristinato la pianificazione dei fondi per il sociale La questione relativa al Presidente Il Vice può tranquillamente lavorare Qualcuno avrebbe potuto pensare che a nome del Presidente potesse rappresentare la volontà di continuare con il coordinamento Nella seduta è stato anche nominato il nuovo Direttore Generale ad Interim il luogo del divisionario Luigi Cicalese Sarà il Dottor Vincenzo Lissa, Segretario Generale del Comune di Avellino Andiamo avanti con l'azienda consortile a sicura festa però verrà nominato il nuovo responsabile dei servizi finanziari Dovremmo trovare una soluzione per il Revisore dei Conti ed approveremo il bilancio Ringraziamo l'ingegner Cicalese per il lavoro svolto in questi ultimi tre anni Ha abbracciato una croce Nel frattempo va avanti la vicenda che tutti conosciamo ovvero quella relativa al Direttore Generale I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno dato esecuzione questa mattina un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Foggia nei confronti di sei persone responsabili a vario titolo in concorso tra loro per detenzione finalizzata allo spaccio sostanza e superficie detenzione abusiva di armi nonché di armi clandestine L'operazione è frutto di un'articolata attività di Polizia Giudiziaria della Tenente della Guardia di Finanza di Lucera coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia che ha disarticolato un gruppo criminale composto da cittadini italiani che gestivano lo spazio sostanza e stupefacenti nel territorio lucerino e nella provincia limitrofa di Campobasso e nell'Alto Sannio Complessivamente sono stati denunciati 20 soggetti a sequestrare più di 1,6 kg di eroina purissima 70 grammi circa di cocaina 19 kg di sostanza da taglio armi e munizioni L'attività investigativa che si è prodatta per circa 6 mesi ha permesso di monitorare numerosi viaggi verso il Molise che gli indagati, anche avvalentosi di corriere occasionale, facevano soprattutto verso la provincia di Campobasso e l'Alto Sannio E' stato particolarmente difficoltoso intercettare le cessioni di stupefacenti a causa dei movimenti prudenti dei componenti dell'organizzazione volti a deludere i controlli delle forze di polizia Determinanti per il corso dell'indagno sono stati due interventi che gli investigatori hanno messo a seno negli ultimi mesi del 2019 e che hanno portato al sequestro di stupefacenti e armi nonché all'arresto in fragranza di 4 persone Infatti nel settembre 2019 i finanziari eseguono una perquisizione presso una carrozzeria di lucera nel corso della quale furono sequestrare più di 1,5 kg di eroina purissima 55 grammi di cocaina circa 15 kg di sostanza da taglio 5 pistole con matricola a brase 125 proietti di vario calibro un congegno esplosivo artigianale composto dall'assemblaggio di due munizioni di grosso calibro unite tra loro con componenti elettroniche con funzione di timer I due responsabili furono arrestati e tradotti verso la casa circondariale di Foggia Ad ottobre 2019 nel corso in controllo su strada i militari fermarono sulla strada 17 due corrieri del gruppo criminale partiti da Lucere e diretti a Campobasso che trasportavano 300 grammi di eroina e 15 grammi di cocaina anche in questo caso entrambi i soggetti furono arrestati e associati al calcio di Foggia i finanziari hanno inoltre passato al sedaggio tutte le posizioni reddituali e patrimoniali dei componenti dell'organizzazione scoprendo che tra i soggetti sottoposti a misura cautelare personale il vecchio gruppo criminale beneficiava del reddito di cittadinanza mentre un altro componente aveva da poco presentato la richiesta per beneficiarne entrambi sono stati segnalati all'Inpsa ai fini della sospensione della prestazione sociale come previsto dalla legge che ha introdotto nel 2019 tale forma di sostegno al reddito grazie a tutti Grazie a tutti.